Ben trovati nell'angolo dello sport. Intanto facciamo il nostro doveroso saluto alla famiglia Di Giovanni, soprattutto Nicola Di Giovanni, per la scomparsa del nonno. Le più sincere condoglianze da tutta la redazione di TVQ Sport. La campagna abbonamenti del Pescara 2018-2019 avrà inizio il 9 di luglio alle ore 16 Con il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati. Il termine della stessa è fissato per le ore 20 del 22 luglio 2018. A seguire più precisamente alle ore 10 del 23 luglio partirà la vendita libera. Parliamo di mercato. Il difensore Gennaro Scoglignamiglio, come vi ho già detto ieri, Ledian Memusciai e Massimiliano Gatto sarebbero i primi tre colpi del Pescara. Adesso dovrebbero arrivare Mascino e dalla Roma, dalla Viterbese il terzino Daniele Cegliento, scuola Napoli, mentre dalla Fidelis Andri arriva il centrale Alessandro Celli, che è cresciuto nel Genova. Intanto il Pescara cerca comunque di arrivare ancora a Melchiorri. Oggi, fino a venerdì 6 luglio, i giocatori biancazzurri si ritroveranno a pescare per le visite mediche per poi cominciare ad allenarsi da domenica 8 luglio al Centro Sportivo Vestina e non al Poggio degli Ulivi. Dal 16 luglio poi ci si sposterà a Palena e si proseguirà la preparazione fino al 29 per poi rientrare in sede in vista del primo impegno ufficiale con la Coppa Italia il 5 di agosto. È tutto per questa edizione, un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre, un saluto anche all'amico e collega Leo Di Blasio.